ragazzi bentornati sul set di chef in camicia oggi nuova ricetta da libro precisamente di nick e si vede ragazzi sono una veste un po più un po più elegante un po più da businessman quindi ragazzi oggi il risotto bianco e nero di nick iniziamo e voilà ragazzi eccoci qua sul set gli ingredienti per questa ricetta sono riso carnaroli parmigiano grattugiato limone e lime nero di seppia scalogno tritato olio sale vino bianco per sfumare il nostro risotto un po di prezzemolo un po di pane tostato del burro e siamo belli che pronti possiamo iniziare ovviamente ingrediente segreto il libro di chef in camicia da cui ho preso la ricetta del grande nick quindi iniziamo subito e direi che possiamo partire con la tostatura del riso ovviamente ingrediente principale per un risotto è un buon brodo vegetale che noi abbiamo fatto cuocere per dieci giorni tre notti no non è vero ragazzi un brodo vegetale semplice semplice con cui andremo a portare a cottura il nostro risotto quindi olio extravergine di oliva in un padellino andiamo ad accendere il fuoco a una temperatura non troppo alta deve il nostro scalogno che andremo adesso aggiungere deve soffriggere dolcemente si deve quasi sciogliere perché è tritato molto finemente quindi non dovrà bruciare bensì dovrà un po stufare all'interno del grasso scalogno tritato molto finemente all'interno del nostro olio vola bene ragazzi step successivo riso carnaroli rigorosamente carnaroli lo andiamo ad inserire all'interno del nostro pentolino e procediamo con la tostatura la tostatura ragazzi si fa almeno io personalmente la faccia a fuoco molto moderato ok così evitiamo di bruciare il chicco e lo scalogno che è già all'interno aspettiamo qualche minuto quindi che prenda calore e poi andiamo a sfumare con del vino bianco semplice semplice ok chicco di riso bello che è tostato vino bianco ok così andiamo a sfumare questo è il rumore che si deve un po sentire sfumiamo bene facciamo evaporare tutta la parte alcolica e voilà ragazzi così andiamo ad odorare quando non sentiamo più la parte alcolica all'interno del naso possiamo iniziare la cottura con del semplice brodo vegetale quindi un po alla volta di mestolo in mestolo ok facciamo risottare il nostro risotto molto semplice nel frattempo che succede qui con il risotto ci abbiamo minimo 12 minuti di cottura minimo quindi prendiamo del pane raffermo che ho precedentemente tagliato a cubetti più o meno regolare e lo andiamo a tostare ulteriormente in un padellino antiaderente e qui possiamo metterci ragazzi uno spicchietto d'aglio del timo del rosmarino quello che più volete qualsiasi odore più vi piace quindi padellino sul fuoco a fiamma più o meno vivace giro d'olio a sentimento così voilà facciamo prendere calore all'olio e tostiamo il nostro pane nel frattempo continuiamo ovviamente la cottura del riso quando vediamo che si sta ritirando tutto il brodo e andiamo aggiungere dell'altro ok ragazzi ragazzi olio ben caldo pane raffermo tutto dentro e andiamo a tostare bello bruschettato mi raccomando ragazzi prende calore lo andiamo a saltare e lo mettiamo da parte ok ragazzi il pane è praticamente tostato bello croccante non chiede che rumore e che profumo andiamo a versare in una ciotolina lo mettiamo da parte e ci vediamo dopo il riso è praticamente pronto e adesso andiamo a fare un giochino nel senso il riso prevede una parte di risotto bianca semplicemente mantecata burro e parmigiano una parte di risotto nera con arricchita con il nero di seppia ok quindi cosa andiamo a fare andiamo comunque a mantecare la nostra base di risotto bianca la classica maniera quindi burro rigorosamente freddo ragazzi è importantissimo lo shock termico in questa fase per aiutare il risotto a renderlo ancora più cremoso parmigiano grattugiato anche ragazzi il parmigiano ben freddo mi raccomando io vi consiglio di grattugiarlo e lasciarlo addirittura nel freezer non succede nulla l'importante è che sia ben 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 freddo ok quindi parmigiano senza fare un casino come sto facendo io e mantechiamo all'onda ok quindi così in maniera molto energica ok eccolo qua risottino all'onda così se necessario solo se necessario aggiungiamo una punta di brodo vegetale aggiustiamo ancora con una punta di sale perché ragazzi io il riso non lo salo mai all'inizio perché comunque ragazzi il risotto assorbendo tutti i liquidi l'acqua evapora rischieremo alla fine di avere un risotto più che salato avendo poi anche il grana da aggiungere alla fine quindi io preferisco sempre salarlo alla fine un di sale con un cucchiaio lo andiamo ad assaggiare ci siamo due padellini della stessa misura ok mi raccomando e andiamo a dividere il nostro riso di base nei due pentolini in parti uguali quindi un po' qui e un po' qui e un po' qui due risotti di base ce l'abbiamo uno è già pronto così bello semplice semplice come l'abbiamo appena fatto l'altro lo andiamo ad arricchire semplicemente con del nero di seppia cucchiaio nero di seppia tutto dentro e mescoliamo così procediamo anzi procediamo all'impiattamento veloce perché ho una riunione a mezzogiorno allora piatto da portata eccolo qui bello grande ragazzi perché il risotto deve essere bello che si deve impiattare tutto bello largo forse questo è un po' troppo grande ma vediamo vediamo che esce fuori piatto da portata e iniziamo a mettere i due risotti all'interno del piatto quindi con un movimento così proprio alla power ranger un movimento uno qua e uno qua ok quindi risotto dentro voilà il piatto è un po' troppo grande ragazzi ma non fa nulla perché qua siamo uno due tre quattro insomma siamo in tanti no ce lo dividiamo procediamo con il nostro pane tostato ok e lo andiamo a mettere proprio al centro dove c'è la congiunzione diciamo così dei due risotti ok poi ragazzi parte fresca aromatica profumata del nostro risotto limone limone e lime ok quindi la scorza solo esterna del limone la andiamo a mettere sul risotto bianco e lime sul risotto al nero ovviamente poi potete invertire come come più vi piace a me piace il verde sul nero è più una questione di contrasto di colore che di sapore perché comunque alla fine gli ingredienti sono quelli nel risotto quindi andiamo a mettere anche il lime stesso procedimento ok bene ragazzi parte profumata lime e limone ci sono poi nick da ricetta ha messo il prezzemolo tritato ma io sai che ti dico nick lo vado a mettere intero a foglioline così ragazzi il piatto è pronto non ci resta che facciamo una bella foto e poi lo assaggiamo e ce lo mangiamo ragazzi allora momento fatidico forchetta alla mano procediamo all'assaggio qui ragazzi a descrizione vostra se mangiarlo tutto insieme prendere sia la parte con il nero che la parte normale oppure semplicemente una delle due io scelgo la parte al nero di seppia perché voglio provare prima quella non so sono un po più o più strong come to the dark side e voilà ragazzi nick oggi non è qui quindi non potrà dirmi se il piatto è piaciuto o meno però io credo credo di aver fatto un bel lavoro quindi nick guardate il video fammi sapere cosa ne pensi e ragazzi ci vediamo alla prossima ricetta vado a mangiare il risotto con gli altri ragazzi alla prossima ciao grazie a tutti